La struttura a benzina molto economica è arrivata qui da noi in AutoSmile. È una Peugeot 307, 1.4 benzina, 90 cavalli, adatta anche ai neopatentati. Tenuta molto bene sia di carrozzeria che di interni. Fari fendinebbie. Antifurto degli identi car sui vetri. Gli interni, come potete vedere, sono tenuti più che bene. Dotata di autoradio, collettore CD MP3, climatizzatore. I posti posteriori con relativo comando della disattivazione airbag passeggero. Sedili posteriori sdoppiabili. Ruota di scorta. Vetri elettrici e retrovisori regolabili elettricamente. Pensate che questa vettura è già revisionata fino al 2020 e ha la tassa di possesso. Il bollo è pagato fino ad aprile 2019. Vi aspettiamo qui da noi per venire a provarla, visionarla e contrattarla. Grazie, vi aspettiamo in AutoSmile.